come abbinare la gonna d'inverno ciao sono patrizia questo è un canale dove parlo di moda, tendenze moda, come vestirsi e anche come disegnare il figurino di moda se hai una tua azienda, un tuo brand o se stai studiando moda oggi vediamo come portare la gonna nel miglior modo possibile soprattutto d'inverno allora è una guida che vuole essere una guida pratica con un sacco di outfit e capire proprio il modo migliore per portarla come ad esempio questi quattro, parto dalla gonna midi cioè quella che dal ginocchio scende un po' più in giù quest'anno vanno molto di moda le gonne abbastanza dritte, abbastanza asciutte, al massimo si svasano un pochettino al fondo non vanno tanto di moda le gonne quelle ampie, vanno più di moda quelle dritte la midi come vedi in questi outfit è abbastanza facile da abbinare, qual è il trucco? lo stivale, quando tu hai uno stivale che ti sta comodo, che ti piace, che comunque può avere il tacco può anche non averlo, la punta, la punta tonda, deciderai tu, però lo stivale è alto sotto il ginocchio che oltretutto quest'anno è una tendenza, tu metti qualunque tipo di gonna vediamo qui, c'è una gonna in ecopelle, longette, mi raccomando portate le gonne a vita alta o a vita media perché slanciano la figura, ovviamente se ci metti il maglioncino, almeno il maglioncino dentro la cintura sul davanti perché si veda proprio il punto vita e come ha fatto proprio in questo outfit, facilissimo, maglioncino, tubino, in ecopelle perfetta con stivali e borsa nel secondo outfit ha una gonna plissè con il maglione e ha aggiunto la cintura non so se si vede dal video però ragazze la gonna è blu e il maglione è nero io personalmente non disdegno di portare il blu col nero perché secondo me non sta male, poi lì sono tutte scuole di pensiero a me personalmente il blu e il nero insieme piacciono infatti lo vedi in questo outfit, sta benissimo poi abbiamo il secondo outfit con il bordeaux, questo tubino l'ultimo ha una gonna che è abbastanza lunga allora per quelle di voi che si spaventano a vedere il raso sappiate che il raso c'è anche opaco se non ti piace il raso lucido cerca una gonna come si usa adesso leggermente svasata, lunga però in raso opaco così ti toglie la soddisfazione di portarla anche tu il raso ovviamente c'è in fibre naturali come la seta e il cotone se no c'è anche inacettato, viscosa, poliestere vedrai tu che tipo di raso vuoi prendere però opaco c'è gli abbinamenti degli accessori ovviamente nel primo outfit borsa e scarpa cioccolato abbinate fra di loro il resto dell'outfit di un unico colore nel secondo outfit cintura, borsa e stivale dello stesso colore nel terzo outfit ha la borsa del colore della maglia e lo stivale del colore della gonna questo anche per capire come abbinare magari gli accessori nel modo più facile possibile qui vediamo la famosa regola dei due terzi che sarebbe da seguire per tutte le donne però le petite sono quelle che dovrebbero tenere più presente di questo tipo di regola proprio perché le aiuta ad essere più slanciate la regola dei due terzi come vedi in questa foto si capisce molto bene il punto vita segnato cioè la parte sopra deve essere un terzo la parte sotto del corpo dalla vita in giù deve essere due terzi fatti l'occhio quando ti vesti a vedere questa cosa dei due terzi che in genere si ricrea con dei capi che tu porti nella parte sopra corti al punto vita più o meno anche un pochino più giù e quelli sotto se non sono dei capi lunghissimi ci deve essere una continuità di colore vedi molto bene queste foto come sono molto slanciate proprio perché questa regola dei due terzi ti aiuta ad essere più slanciata lo vedi ancora meglio qui la differenza l'outfit con la gonna a pieghe plissè e il maglione bianco sarebbe anche stato bello il problema è che ci ha messo un maglione talmente lungo che è più lungo cioè che copre il sedere ma ancora di più che taglia a metà la figura di la larga e la bassa se segui la regola dei due terzi sei sempre più slanciata anche con delle gonne lunghe adesso va molto di moda la tendenza della gonna al ginocchio nel senso che vanno di moda tutte le lunghezze il discorso è che ogni anno devono tirar fuori il capo particolare che quest'anno va di moda questo anche Vogue ci dice come la gonna al ginocchio sia difficilissima da portare tant'è vero che nelle sfilate la maggior parte delle gonne al ginocchio le hanno fatte in paillettes in pelle stampata trasparenti tutte ricamate cosa vuol dire questo che essendo una gonna difficile l'hanno fatta un po' particolare però nell'80% dei casi ragazzi se voi vedete la gonna di questa foto chi è che si porta un tubino con uno spacco così inguinale direi che la gonna al ginocchio si può portare anche Vogue specifica come sia difficile come lunghezza perché taglia a metà la figura scarpe possibilmente a punta perché slanciano un pochettino il piede lo rendono più stiloso cercare di mettere un pochino di tacco non è necessario avere i 10 cm di tacco almeno un pochino diciamo che conviene sempre portare le calze velate o almeno le calze coprenti nell'80% dei casi vedete nelle sfilate le modelle senza calze perché anche quella è una moda poi ragazze vinci facile perché mi metti una modella senza calze con un tubino difficilissimo da portare è facile qui vediamo le lunghezze che ci sono state in alcune delle sfilate di quest'anno dalla minigonna al ginocchio alla lunghetta a quella alla caviglia il trend super super trend è quello al ginocchio però le gonne si sono viste di tutte le lunghezze come riprodurre questo outfit? facilissimo gonna motivi in ecopelle midi a fatatubino nera perfetta maglioncino in cashmere di mahogani nero borsa in pelle vera color cioccolato che anche quella è una tendenza di marant pelletteria marant e stivale in vera pelle color cioccolato vedi che in 5 secondi abbiamo riprodotto questo outfit basta che tu hai il tuo maglioncino nero corto però mi raccomando infilato nella gonna senza fargli fare i mucchi cioè sistemalo bene che non faccia i grumi lo infili se non prendete dei maglioncini lunghissimi ragazze un maglioncino metà sedere esagerando che poi dopo lo riesce a infilarne la gonna senza che faccia difetto e poi andiamo su una semplicissima borsa nera o borsa marrone in questo caso se abbiamo messo la borsa marrone per staccare vedi che sono pochi pezzi però se ti stai vestire che li sistemi bene funzionano tantissimo se ognuna di noi ha delle scarpe scure comprerai lo stivale nero lo stivale cioccolato grigio scuro nell'80% si tende a prendere degli stivali di colori scuri per cui conviene che la gonna sia di colori scuri siamo anche d'inverno ok vedi l'ultimo outfit è tutta abbinata però ha la maglia marrone la gonna bianca e lo stivale marrone spezza proprio la figura e la bassa gli altri outfit hanno tutte gonne scure la parte diciamo chiara il colore chiaro giocatelo per in sopra così se tu metti una gonna scura e hai lo stivale scuro crei continuità cromatica il più possibile sono tutti colori scuri e ti viene la regola dei due terzi ricordatevi di portare il più possibile delle gonne che siano scure se mettete lo stivale scuro è chiaro che se ti compri lo stivale beige puoi mettere la gonna chiara facilissime anche queste ragazze sono cose facilissime da fare qui vediamo anche un outfit per le curvi chi di voi mi segue da tempo lo sa che mi piace vestire tutte le donne gonna midi in lana di Elena Mirò perfetta ci mettiamo sopra un maglioncino bianco di Marina Rinaldi non portato come nella foto ovviamente nella foto lo tengono fuori così per farti vedere com'è però questo maglioncino anche se sei curvi almeno nella parte davanti della della gonna dalla parte della cintura infilalo perché almeno si vede un pochettino il punto vita e ti slancia vedi che nella foto non l'ha messa la maglia non l'ha messa tutta nella cintura della gonna solo in un pezzettino davanti proprio per slanciare ci aggiungiamo il nostro bello stivale nero per quelle di voi che dicono ah io però non li trovo gli stivali che mi stanno accipicchia accipicchia vai a vedere sul sito di Hullapopken ti ne ho parlato anche in altri video hanno gli stivali con il gambale largo cioè il gambale dove c'è il polpaccio anche misure come l'XL volete prendervi lo stivale e sarebbe giusto lo trovate anche su Hullapopken ci sono diverse alternative adesso vediamo gli errori che rovinano l'outfit il cardigan con la gonna longhette sta benissimo è molto bello magari lo porti a pelle è ancora più bello se hai freddo una cannottierina detto questo parliamo di cardigan corti come si usano adesso non come quello grigio in fondo e voi se ritorniamo al discorso della regola dei due terzi vediamo come un maglioncino lungo che bello lungo quasi a metà coscia di quei maglioncini grossi non aiuta a slanciare la figura è sgraziata è un po' sciatta se volete mettere un maglioncino su una gonna corto lo mettete corto tutto bello preciso ok però non fate queste cose che sanno molto di abbigliamento proprio da casa sciatto vedi come c'è una differenza sostanziale e poi la regola dei due terzi quella bisogna ricordarsela la regola dei due terzi sopra questa gonna i giubbotti abbiamo parlato appunto della regola dei due terzi i giubbotti sono perfetti dal montone il giubbotto montone quest'anno è una tendenza prendete il giubbotto montone il bomber il bomber sì ma non quelle cose gonfie stile studentessa delle superiori ci vogliono dei giubbotti più da donna quindi un po' più corti un po' più asciuttini pelle copelle come piace a te chiodo va benissimo biker va benissimo statemi su delle cose un po' piccoline che ti slanciano qui vediamo al fondo due outfit molto simili però l'ultimo ti ci ho messo un no perché per quel motivo lì per le calce allora il tronchetto quest'anno è una tendenza io ti ho fatto un video dove ti parlavo delle scarpe moda vanno a vedere c'è molto il tronchetto però ragazze bisogna portarlo con le calze coprenti vedi la differenza netta l'effetto del tronchetto con la calza velata o senza calza oltre a tagliare la figura quindi ad abbassarla è un po' datato non si usa più portarli così questi tronchetti si portano con una calza velata ma quando c'è proprio tanto stacco così ragazze ci vuole la calza coprente perché perché scarpa nera calza nera gonna scura ti rende tutto uniforme e più stiloso e più aggraziato oltre al fatto che il tronchetto con la calza velata non è più tanto importantissima la calza ragazze è importantissima vediamo qui l'effetto già siamo su una gonna al ginocchio per di più fantasia che allarga però le fantasie così sono eleganti se le sai portare detto questo vediamo la differenza sostanziale che c'è con o senza calza altro esempio di outfit qui due gonne molto simili però il secondo outfit ha tanto mix di colori che non si capisce perché ha una scarpa blu una gonna beige e il maglione bordeaux quindi già è un mistone di colori nel primo ci sono soltanto due colori maglia nera si vale nero gonna ok vedi come la differenza di mettere tanti colori che non abbinare i colori e per di più senza calze due gonne che sono simili la prima rende sicuramente vince 12 a 0 anche per il discorso delle curdi mi raccomando mettere la maglia un po' sul davanti nella cintura ed evitare tutti questi tagli giacca lunghissima gonna gonna midi e poi dopo pelle a vista e poi stivale nero capisci che qui sono tutti questi tagli che abbassano e allargano qui apriamo una piccola parentesi sul discorso di portare queste gonne senza calze che è dal 2016 che andiamo avanti con sta storia ma secondo me è anche dal 2015 allora qui c'è un articolo di Vogue dal 2016 che spiegava come c'era questa super tendenza che viene fuori da Londra da Sex and the City che a New York portavano sempre le gonne senza calze gli abiti senza calze ed è anche una tendenza che c'è stata molto a Londra si è diffusa a Macca e D'Olio cosa dice Vogue giustamente dice bisogna essere coraggiose per portare le gonne senza calze d'inverno intanto prima di tutto se proprio proprio devi fare una cosa del genere è ovvio che è come d'estate devi curare le gambe super idratate super perfette poi c'è il problema è che col freddo la pelle diventa pallida perché fa freddo se stai tanto fuori e quindi consigliano di usare l'autobronzante capisci che la cosa diventa complicata si fa prima mettere su un paio di calze vabbè detto questo per le più coraggiose per quelle che devono essere la moda a tutti i costi e ti dirò prima la salute poi la moda perché ci sono molte ragazzine che sono finite al pronto soccorso dal freddo direi che se proprio proprio bisogna farlo stacci il meno possibile nel senso che scendo dalla macchina saluto gli amici e mi fiondo nel locale ok non state delle ore al freddo senza calze giusto per fare la figa coi dieci minuti e poi anda dentro il locale allora i trucchi ci sono prima di tutto queste specie di leggings che sono anche abbigliamento intimo volendo però la cosa molto importante oltre a prenderli nude è che a casa devi fare tutte le prove che questi leggings non si vedano perché questi ciclisti questi ciclisti pantaciclisti ti tengono un po' caldo però non si devono vedere quindi devi fare le prove da seduta a cavallare le gambe alzarti per fare in modo che questi ciclisti color nude spariscano non si vedono neanche quando sei seduta miracolo poi ovviamente la cosa importante per resistere al freddo senza calze è avere le estremità del corpo al caldo cappellino e piedi quindi testa e piedi soprattutto anche le mani volendo però testa e piedi soprattutto quindi cappellino di lana di cashmere qui ti ho fatto vedere questo di one cashmere calzettoni super pesanti poi ci si chiede perché c'è questa moda del mocassino della Mary Jane con la calza alle volte le mode non vengono fuori solo per capriccio vengono fuori anche perché hanno un'utilità tutte queste ragazzine che vogliono portare queste scarpe e queste gonne senza calze gelano e quindi almeno il calzettone spesso bisogna averlo eviterei il discorso delle calze come si di queste calze al ginocchio portate così come nell'ultima foto col tronchetto e la calza al ginocchio perché è un abbinamento un po' datato la calza al ginocchio la puoi mettere sotto uno stivale al ginocchio per tenerti caldo ti faccio vedere l'esempio stivale alto ci sono anche le calze alte in cashmere volendo se una è freddolona se le procura detto questo mi raccomando se proprio proprio essere alla moda a tutti i costi direi che prima verrebbe la salute però stai fuori al freddo senza calze il meno possibile il meno possibile per cortesia ragazze se no piuttosto ti metti una calza coprente poi vediamo qualche gonna difficile da portare che oh mamma mia come faccio la gonna in pelle o ecopelle la pelle e l'ecopelle sono un super trend ci sono anche le gonne l'ultimo outfit è un tubino in ecopelle ecco io direi di non portare questi tubini come delle segretarie quelle dei sogni quelle immagini lì di segretaria da sogno di certi detto questo il tubino in ecopelle si può portare però portato con sramatizzato il terzo outfit al maglioncino grigio la camicia e il tubino qui il discorso è il layering il layering è anche questo una tendenza cioè parliamo in italiano siamo in Italia gli strati però gli strati di diverse misure di maglioncino corto camicia lunga oppure t-shirt che esce fuori dal baglioncino e poi il tubino calza velata e volendo anche anfibio così è bello rock vedi come lo stesso tubino in pelle portato in un certo modo è super grintoso è super figo nell'ultimo non è molto facile da portare così in pelle ci sono anche o in ecopelle ci sono anche altre forme di gonne anche un po' più svasate con la bottonatura cioè trovi tutte le cose possibilmente sempre a vita alta o a vita media le puoi portare tranquillamente con l'anfibio con lo stivale cioè la gonna in ecopelle soprattutto quando è un po' svasata ti puoi divertire a portarla e oltretutto c'è anche in tantissimi colori te la faccio vedere anche qui il terzo outfit ha una gonna nera con uno stivale colorato volendo puoi giocartela anche così le gonne in pelle ecopelle ci sono anche burgundi beige marrone scuro un po' più lunga più corte belle 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 mi raccomando non abbiate paura di portare le gonne in pelle con lo stivale sono perfette anche per le kurdi però ti faccio vedere l'ultimo outfit che cos'è cioè l'ultimo outfit ragazza imbarazzante perché sembra proprio uscita dalla macchina del tempo questo tubino corto con queste calze sembrano grigie queste calze un belato strano non capisco e lo stivale cioè portato così quel tubino non aiuta ma non aiuterebbe nessuno e poi anche un modo vecchio di portarlo l'altro vicino è un tubino super figo sono tutte curvi però ha il maglioncino il tubino e lo stivale alto scamosciato perfetta anche per le curvi ci sono queste gonne un po' più un po' più ampie se ci dovete mettere il tronchetto mi raccomando con la calza ok una calza scura perché nell'ultimo l'ha messa la calza ma sembra una calza grigia non si capisce che colore di calza sia andiamo alla gonna in denim anche questa è una grossa tendenza ragazze gonna in denim super tendenza tendenza ok in genere c'è tubo cioè che va giù così o si stringe un pochettino o va giù dritta con lo spacco perfetta la puoi usare anche con i mocassini col calzino soprattutto se lunga non corta più lunga possibile quando vuoi fare il giochino del mocassino con il calzino però sono belle facili da portare l'unico modo in cui eviterei di portare la gonna lunga in denim e con la scarpa da ginnastica ci sono regioni d'italia dove le scarpe da ginnastica le chiamano ciabatte e ci siamo capite poi abbiamo anche altre forme di gonne un po' più svasate con i teli volendo ci puoi mettere anche una calza fantasia nera però non fantasie super colorate nera su nera come il primo outfit è veramente chic con la sua bella scarpina è perfetta l'ultimo outfit si vede già da solo che è sciatto non ci sono parole per commentarlo quell'outfit lì le vediamo bene anche sulle curvi le gonne in denim sia lunghe che longette addirittura l'ultima svasata d'acca è meravigliosa lunga col mocassino non portate queste gonne in denim come l'ultimo outfit che sono veramente sciatte sembra una cosa da altri tempi la gonna a tubino in denim portata con la scarpa da ginnastica invecchia soprattutto al ginocchio quindi evitate gli outfit così altra super tendenza la gonna in maglia la gonna in maglia o la puoi portare diciamo spezzato maglia di un colore e gonna di un colore e il completo con la gonna in maglia è perfetto ed è in super tendenza con o senza spacco più o meno lunga i colori te li scegli tu con lo stivale sotto è perfetta con l'anfibio un po' tutti i tipi di scarpe tranne le ciabatte come ti faccio vedere o le scarpe da ginnastica o sandali strani non ben anche se questi sandali hanno la pelliccia vedi qui in questa foto tre lunghezze di gonne diverse io ho voluto proprio estremizzare ti ho messo la gonna cortissima la gonna lunghissima e quella media a occhio già subito la gonna al ginocchio per quanto che dicano che è una tendenza super moda ma non è che bisogna mettersi sempre tutto quello che va di moda su un appetito non aiuto vedi come i due outfit a lato sembrano molto più alte di quella in centro che ha la gonna al ginocchio quindi attenzione alle misure così medie è lo stesso discorso delle lunghezze quando vai su delle misure medie è una battaglia persa o te la prendi midi cioè che arriva a metà polpaccio o te la prendi super corta o te la prendi super lunga per le petite vi consiglio di togliervi la soddisfazione di mettere la gonna corta d'inverno se d'estate devi fare tutti devi avere le gambe perfette abbronzate precise di tutto e di più d'inverno cavoli metti una calza coprente sei a posto cioè se te la senti ma mettetevele queste gonne corte non dico mini gonna perché mini gonna potrebbe già essere quella gonna che va due dita sopra il ginocchio cioè non deve essere sempre un discorso di metà coscia anche solo due dita sopra il ginocchio fa già gonna corta in base a come ti senti io veramente ve lo dico ragazzi se non le portiamo d'inverno queste minigonne quando le vogliamo portare che d'estate ci vuole veramente di essere delle modelle invece d'inverno casa coprente milioni di minigonne ragazze divertitevi a portarle in minigonne questo e soprattutto per le petite perché la minigonne sulla petite slancia veramente tanto bene spero che questo video ti sia piaciuto vai a vedere gli altri video che ho fatto dove parlo di come sembrare più slanciata di come nascondere la pancetta di come vestirsi gli errori da non fare anche un video bello approfondito sul quiet luxury lusso silenzioso spero che questo video ti sia piaciuto e fammelo sapere mettendo un like noi ci vediamo tutte le settimane su youtube seguimi su youtube ma seguimi anche su instagram sul mio canale troverai anche dei video dove disegno il figurino di moda perché insegno a disegnare anche il figurino alla prossima settimana ciao da patrizia pato 74 ciao ciao